arriva il natale arrivano le feste ma in borsa cosa fare con campari vediamoli insieme ultima strategia di tutto l'anno del 2023 è una strategia che avete selezionato voi amici a casa io avevo proposto alcuni titoli voi sulla canale telegram di bmpp paribà avete scelto 40 per cento dei votanti campari e quindi non poteva essere davvero il titolo migliore per chiudere qui vista delle feste e andiamo a vedere il grafico perché la strategia che vado a proporre una strategia di stampo rialzista una carta verde ma vediamo un quadro tecnico che è assolutamente ribassista da mesi ormai da questa estate questa tre line che ha guidato la discesa è stata testata più più e più volte però preside i livelli significativi che sono stati ritoccati nel recente passato con quei supporti di area 9,50 che non sono banali quindi una strategia verde perché perché non voglio entrare ai valori attuali e spero che nel giro dei prossimi giorni vi sia fatto un nuovo test dell'area dei 9,80 che è questo minimo orizzontale che ho individuato sto parlando del minimo del 29 di novembre quindi ho proposto un ingresso in acquisto a 9,85 lo stop l'ho messo sotto questo minimo davvero importante il minimo era 9,54 per la strategia ho messo a 9,50 target invece ambizioso 10,80 lo vedete indicato su questo livello da prima supportivo violato al ribasso e poi del dato resistenziale evidentemente seguendo questa logica operativa mi aspetto anche un'inversione di questo trend ribassista che come detto ha penalizzato e depresso i corsi di campari per lungo lungo tempo ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmp paribà attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading grazie a tutti 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 grazie a tutti